Vogliamo aprire la nostra B? Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Leggeremo dal primo versetto. Gloria a Dio, alleluia. La parola dice così. Che ha cinque portici. Sotto quei portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, vuoi guarire? L'infermo gli rispose, signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito, è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono, chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva quelle cose di sabato. Ti ringraziamo Dio nostro per la tua meravigliosa parola. Ti chiediamo di parlare i nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo e per i meriti di Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Amen. All'inizio di questa settimana mi è venuto in mente questo passo biblico e mentre meditavo stavo pensando che circa, mi sbaglio di qualche mese, nove anni fa, lo predicai in chiesa a crema. Perché dico circa nove anni fa? Perché Itan era nato da poco e noi ci trovavamo a casa dei miei suoceri, siamo stati per circa tre, quattro mesi e questo perché mi ricordo, perché c'è stato un problema dopo il parto alla schiena di mia moglie e quindi avevamo bisogno, cioè lei aveva bisogno di essere assistita e io non avrei potuto essere di supporto 24 ore su 24 perché appunto poi sono dovuto tornare al lavoro. E proprio mi ricordo che quando appunto ho meditato questo mi trovavo a casa dei miei suoceri. Perché mi ricordo questo? Non tutti c'eravate quel giorno, se lo ricordano fatemi dire un po' i vecchi, ecco così, gli altri invece si sentono così più giovani, perché c'era il fratello Palmiro. E io non mi resi conto che Dio quel giorno fece un miracolo perché mentre stavo predicando lui sentì una voce, il fratello Palmiro, ah meglio, prima vi dico per coloro che non l'hanno conosciuto chi era così comprendiamo meglio. Fratello Palmiro ci conosce all'età di 88 anni e fratello Palmiro quando venne in chiesa, venne attraverso un'evangelizzazione, lui non sapeva leggere e scrivere, faceva tutto sua moglie, ma da quando poi venne a mancare sua moglie le cose purtroppo andarono male, perché qualsiasi cosa arrivava a casa, per esempio, soprattutto dove doveva pagare, lui non capiva niente, cartocciava tutto, metteva sul tavolo, buttava e quindi i debiti si sommarono. Noi lo incontrammo, era seduto su un muretto in un'evangelizzazione e in quel sabato si faceva poi la riunione alla sala Alessandrini, avevamo affittato per concludere il culto alla sala Alessandrini e le sorelle gli hanno detto Palmiro noi ci riuniamo dopo alla sala Alessandrini, se tu vuoi venire vieni e la sua risposta è stata se mi portate vengo e il suo motto era se mi portate vengo, cioè quindi tu lo potevi portare ovunque, lui veniva e ricordo appunto che tra l'altro lui veniva anche ai culti della domenica pomeriggio a Lodi e quando vide i battesimi per la prima volta ha detto mi voglio battezzare, immaginate come mi sentivo io e Gennaro in quel momento, perché lui entrava con due stampelle piano piano, immaginate cosa significa un uomo di 88 anni, che da anni si porta sulle stampelle scendere nelle acque battesimali, cioè succede qualcosa, cosa diranno i parenti, lui non aveva figli, però qualche parente sempre prossimo, sapete quando devono guadagnare soldi sulla vita degli altri si presentano subito, quindi eravamo un po' preoccupati, però mi ricordo che abbiamo fatto questi battesimi e piano piano lui è sceso nelle acque battesimali, proprio piano piano si reggeva veramente a fatica e così era sempre tutti i culti, veniva con queste stampelle e una volta mi fece vedere anche come lui doveva dormire, lui aveva una struttura metallica che quando andava a dormire si doveva incastrare nel materassi in questa struttura metallica, questo era Palmiro, piano piano, lui sente una voce durante la prega e dice butta le stampelle, finisce il culto, io sto parlando da questa parte e lo vedo che lui chiacchiera con qualcuno e tutti, Palmiro, Palmiro, ma non capivo, viene da me, mi batte e mi dice guarda, mi faceva così, Palmiro che c'è, siccome stavo venendo da qualche problema da risolvere, cioè io lo guardo un po' e non riuscivo a capire, sapete, ho detto Palmiro sì cosa c'è, non ho capito che c'è, e poi sono entrati in me, le rotelle le ho messe a posto, perché mi conosce, sa che io non ce l'ho a posto in questo senso, quando qualcuno mi parla sono altrove con la testa e ho cominciato a guardarle, lui mi saltellava da una parte all'altra e il Signore l'aveva guarito, noi crediamo che il Signore guarisce. In questi passi del Vangelo Giovanni dice sono stati scritti affinché noi crediamo che colui che le ha compiute è Cristo Gesù il Figlio di Dio e nel suo nome noi riceviamo salvezza, nel suo nome noi riceviamo guarigione, nel suo nome noi siamo battezzati con lo Spirito Santo e con il fuoco. E' bello questo passo della parola di Dio, dice appunto così, Gesù arrivò a Gerusalemme che c'era una festa e probabilmente entrò, non lo so se entrò o da dentro Gerusalemme arrivò a questo luogo che è al nord del Tempio e dice che era presso la porta delle pecore, c'era una vasca chiamata in ebraico Betesda. Perché si chiamava porta delle pecore? Non ho fatto una grande ricerca ma intuito si può capire perché probabilmente quello era il luogo dove facevano entrare e uscire le pecore perché a intuito mi viene da capire che essendoci una vasca le pecore trovavano modo per dissetarsi, quindi quello era il punto dove si riuniva era il gregge per bere e si chiama Betesda, casa di misericordia e questo mi fa pensare a noi perché noi dalla parola di Dio siamo chiamati pecore, vero o no? E non è un'offesa, è veramente qualcosa di bello. E' il Signore che ci conduce al pascolo, ci porta alla vasca di Betesda per dissetarci e oggi più che un luogo fisico, questo è un luogo spirituale e io credo che la vasca è proprio la sua parola e la sua persona, lui è la parola di Dio perché Gesù ha detto chi beve di quest'acqua non avrà mai più sete anzi in lui diventa un'acqua che scaturisce a vita eterna, cioè Gesù porta vita. Com'è importante che quelle pecore dopo che avevano fatto il loro pascolo tornavano e avevano bisogno di dissetarsi così altresì importante che noi come figura di pecora spirituale abbiamo bisogno di cibarci e di dissetarci alla vasca della parola di Dio. Amen, gloria al Signore. E in questa mattina mi piacerebbe con l'aiuto del Signore, con l'aiuto dello Spirito Santo immaginare che noi ci troviamo sotto quei portici e le cose cambiano non grazie a una vasca fisica non grazie a una porta fisica ma grazie alla presenza di Cristo Gesù perché questo luogo diventa meraviglioso non per gli elementi fisici che alcune religioni vogliono continuare a credere ma è per la presenza di Cristo Gesù perché alcuni credono la roccia nera, alcuni credono all'acqua santa noi invece abbiamo creduto a Cristo Gesù, il vivente, il risorto dai morti. Per noi non esiste un luogo sacro ma ogni luogo diventa sacro, ogni luogo è santificato quando c'è la presenza di Dio e noi desideriamo con tutto il cuore che Gesù entra per quella porta delle pecore e stia in mezzo a noi perché quando c'è Gesù veramente le cose cambiano. Ci sono alcuni che si portano le collane, le immaginette, i crocifissi, non sono queste reliquie, non sono questi pezzi di metallo che possono fare qualcosa per te. E così stava succedendo proprio alla vasca di Betesda che non sappiamo qual è il motivo ma quest'acqua quando si muoveva praticamente qualcuno pensava se mi cituffo dentro sarò guarito. Non so perché Dio ha permesso questo, non sappiamo per quanto tempo Dio ha permesso questo ma è sicuro che dopo il passaggio di Gesù nessun angelo è venuto più in quella vasca. Questo ne sono più che certo perché con Gesù le cose cambiano. Molti probabilmente cercavano una guarigione ma non cercavano un incontro con Gesù mentre noi vogliamo questo incontro con Gesù e quando incontriamo Gesù la guarigione è certa. La guarigione non è un'opinione la guarigione non è una dottrina la guarigione è un'esperienza e noi vogliamo vivere l'esperienza della guarigione perché Gesù è colui che guarisce e noi ci crediamo se c'è qualcuno che in questo momento può essere chiamato infermo come quest'uomo questa mattina Gesù ti guarisce e la parola di Dio parla che sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi e di paralitici e Gesù passa, li poteva anche guarire a tutti ma noi siamo un po' come queste figure ognuno di noi porta qualcosa dentro o ha portato e racconta la testimonianza di come ha vissuto sotto questi portici da un punto di vista simbolico che può essere una malattia fisica c'è bisogno di guarigione una malattia psicologica voi sapete che oggi un'altra malattia che poi nei dintorni noi stiamo vivendo sapete che il fratello Fabrizio qualche giorno fa si è trovato con il suo comandante con la sua squadra a tirare su da un palo a Romanengo una persona che si voleva buttare da lì e togliersi la vita la paura ti fa fare questo è una malattia è una malattia spirituale che Gesù deve guarire la malattia dell'anima il peccato Gesù deve guarire tu magari forse dici ascoltando questo ma io non ho bisogno della guarigione di Cristo Gesù no non è così tu hai bisogno perché se non è fisica può essere spirituale se non è spirituale e mentale abbiamo bisogno che il Signore metta la sua mano nella nostra vita e se noi guardiamo la nostra vita probabilmente individuiamo qual è il problema qual è la nostra malattia forse siamo ciechi forse paralitici un numero di infermi zoppi arriva Gesù e in questa mattina c'è Gesù e ci fa una domanda e ci dice vuoi guarire? è interessante questa domanda vuoi guarire e io credo che coloro che predicano questa parola si sono sempre chiesti perché Gesù dica a uno che è zoppo da 38 anni vuoi guarire ma se voi andate in un ospedale entrate in una camera in una stanza e dite a un ammalato tu vuoi guarire? ma quello ti risponderà mai no? ti dirà di sì però io credo che nella domanda di Gesù non c'è solo la questione di guarigione vi imbastisco un po' questa domanda vuoi guarire secondo le modalità di Gesù? o tu vuoi guarire secondo le modalità che ti sei prefissato nella tua mente questo era il problema di questa persona e lui dice infatti sì io voglio guarire vorrei guarire però la mia condizione è che essendo paralitico e non magari un cieco non sono mai pronto ad arrivare prima degli altri nella vasca sì voglio guarire però la prenotazione della visita me l'hanno spostata fra tre mesi perché adesso dicono che c'è il covid e non mi possono visitare quindi la devo spostare fra tre mesi ma tu vuoi guarire non ti fai il problema quando ci avrai la prossima visita Gesù non ti ha chiesto Gesù non è un numero verde Gesù non è il cup Gesù è il figlio di Dio non ti ha chiesto quando sarà la prossima visita ma tu vuoi guarire secondo le modalità di Cristo Gesù ora la condizione di questa persona è particolare noi leggiamo che era zoppo paralitico da 38 anni voglio un po' però non è che voglio picchiare questa persona che un po' non sa rispondere a Gesù perché io credo che ognuno di noi avrebbe risposto a Gesù nello stesso modo quindi non è che lo dobbiamo mortificare dobbiamo capirlo però 38 anni la prima cosa che vedo che un uomo è da 38 anni paralitico certo che 38 anni non è che sono pochi non è che passano poi così velocemente però io dico ho 43 anni sembra che passa tutto velocemente però 38 anni in un'infermità non è che ti passa così velocemente 38 anni significa che tu hai guardato la tua malattia ti sei abituato alla tua malattia e hai guardato in quei 38 anni quante persone ti sono passate davanti correndo e camminando quanti bambini ti sono passati che giocavano al pallone davanti caro paralitico quanti bambini giocavano a nascondino quanti bambini magari gli avranno dato fastidio mentre giocavano a nascondino e lui sapete ogni giorno si alzava sempre irritato e ce la prendeva con questi bambini è vero o no poteva capitare in 38 anni quante cose capitano 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 perché si nascondevano dietro la vasca magari si schizzavano la sapete i giochi con l'acqua non credo non ne abbiamo inventati noi al campeggio le avranno inventate pure a Gerusalemme quando c'erano le vasche quindi si facevano i cavettoni e lui gli dava fastidio perché non li poteva fare e quindi non aveva voglia neanche di riceverli è vero o no succede succede pure in campeggio nei turni misti quando si gioca quello che che è infastidito da queste cose smettendo andate più in là succede succede si irrita una persona ma è da capire perché si irrita perché lui non ha certe abilità che hanno gli altri è disabile e passano gli anni e si sta abituando domandò anche a quello ormai ma può cambiare la mia vita io sono ormai così da 38 anni e poi un'altra cosa che mi sono chiesto ma in 38 anni questa persona non ha neanche un amico e io me lo sono chiesto ma questo come mai dopo 38 anni non c'ha nessuno che lo prenda e lo metta nella vasca e quelli che sono stati guariti con questa modalità non gli è venuto in mente di dire però quasi quasi dopo che ho ricevuto questa grazia ma quasi quasi mi fermo un attimo insieme a questo paralitico passo le ore un po' con lui perché se magari l'acqua si agita lo prendo e lo metto dentro nessuno lo capisce nessuno lo comprende e nessuno si prende pure cura di lui sono 38 anni qualcuno si poteva fermare non ho nessuno cioè mi mi tocca questa probabilmente non era sposato a causa della sua problematica non aveva figli a causa della sua problematica però un'amicizia sapete quando uno conosce alcuni che chiedono l'emosina perché questa persona chiedeva l'emosina ci sono quelli che sono di abitudine che poi piano piano magari li conosci pure magari gli dai l'euro però lo conosci pure gli fai il sorriso questo niente non c'aveva un amico la situazione non era bella era veramente triste per questa persona e io credo che lui aveva ormai archiviato tutto ormai aveva chiuso la sua vita ormai la mia vita è cominciata così e si conclude così io non ho nessuno sono una persona sola con chi sta parlando con Gesù che invece il caso non l'aveva archiviato e questo è bello tu forse hai archiviato il caso della tua infermità e hai detto non c'è più miracolo non c'è più circostanza che può cambiare ormai mi sono così abituato a vivere così che devo vivere così e molte volte ti trovi anche nella solitudine a causa di queste infermità ma in questa mattina passa Gesù e ti voglio dire una cosa mi viene proprio in questo momento Gesù non ti vuole prendere in giro Gesù non sta scherzando con la sua parola Gesù non vuole ingannare se tu sei infermo guarda che Gesù veramente ti vuole guarire vuoi guarire secondo le modalità che Dio ha stabilito la modalità è Cristo Gesù la modalità non è qualche altra situazione vuoi guarire e questa persona qui si sente come dire incapace di rispondere e la sua risposta non non ha prospettiva non conosce colui che ha davanti noi vogliamo chiedere al Signore di guarire in questa mattina Signore entra per quella porta tocca ciascuno di noi coloro che stanno ascoltando coloro che sono infermi qui fratelli Dio non si è dimenticato di noi sapete una cosa una delle cose che io insisto e non voglio chiudere il locale di culto è perché credo nei miracoli del Signore non sono una persona forte e non mi reputo una persona spirituale più di voi sono una persona come voi in quei portici che ha bisogno di Gesù e Gesù sa Gesù conosce la nostra vita Gesù misura la nostra fede ma non gli ha chiesto nulla non gli ha detto tu non sei da guarire non ha detto va bene dai tu non sei cosa per essere guarito qua ce ne sono tanti altri mi rivolga a qualcun altro no Gesù voleva incontrare proprio quella persona Gesù voleva guarire quella persona Gesù sapeva che aveva bisogno quella persona tu hai bisogno di Gesù Gesù ti vuole guarire e Gesù gli disse alzati prendi il tuo lettuccio e cammina che modalità che ha Gesù non è che gli ha prescritto una fisioterapia alzati se Gesù ti dice alzati prendi il tuo lettuccio e cammina tu ci credi ci crediamo fratelli alziamoci alziamoci dalla nostra posizione di infermità e alziamoci per ricevere la guarigione avete notato che Pietro prende da Gesù e fa la stessa cosa col paralitico che stava lì nella porta del tempio e lo prese per la mano e lo sollefò e disse si guarito alzati no ma prima devo vedere non vedere niente alzati no ma poi se cado non cadi alzati perché lo dice Gesù è scritto nella sua parola alzati prendi il tuo lettuccio e cammina dice la parola di Dio in quel tempo io agirò contro tutti quelli che ti opprimono e salverò la pecora che zoppica raccoglierò quella che è stata cacciata di e nel profeta il profeta Isaia dice allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari chi sono queste acque di chi sta parlando il profeta sta parlando di Gesù e se Gesù è l'acqua che disseta e lo è allora fratelli insieme tutti quanti insieme vogliamo invocare la presenza di Dio per dire Signore guarisci Signore battezza apri la mia bocca battezzami di Spirito Santo Gesù è qui pronto per toccare a un certo punto noi vediamo che tutto si dilegua questo uomo sta camminando col suo lettuccio e lo fermano la religione lo ferma i farisei lo fermano che stai facendo oggi è sabato non si porta il lettuccio ok non si porta ma lo dici tu ma quella persona che mi ha guarito mi ha detto alzati e prendi pure il tuo lettuccio non è che ha detto lascialo prendi il tuo lettuccio e cammina poi si incontra con Gesù più tardi lo trova nel Tempio e Gesù gli dice ecco tu sei guarito non peccare più che non ti accada di peggio è una frase che Gesù non ha mai detto a nessun ammalato è vero o no non la leggiamo da nessuna parte solo a questo miracolo a questo paralitico lo dice ora io mi sono fatto delle domande ho detto ma Gesù perché gli sta dicendo una cosa del genere ho letto anche qualche commentario mi sono fatto anch'io delle domande le risposte sono state molteplici allora la prima è ve le espongo così non peccare più perché nell'eternità accade di peggio chi pecca altro che 38 anni poi paralitico chi pecca e non è guarito dal Signore e si dà i peccati di questo mondo volge lo sguardo verso questo mondo e quindi dalle spalle al Signore poi avrà da soffrire per l'eternità vi voglio raccontare una testimonianza vent'anni fa l'ho sentita e non me la dimenticherò mai quindi questa testimonianza che vi racconto è già stata raccontata e si parla di anni fa quindi una cosa che è successa almeno forse una quarantina d'anni fa ma il pastore che la raccontò era presente quindi non è il tramando del famoso come dire telefono senza filo e oggi si racconta boh è vero un paralitico si trovava in chiesa e quella mattina al culto il Signore lo guarì non sto raccontando una parabola una storia vera e quella persona non era un credente per le prime volte lo portarono in chiesa il Signore fece un miracolo lui si alzò dalla sua sedia a rotelle e cominciò ad andare avanti indietro per il corridoio ringraziando Dio e fu proprio un miracolo così davanti a tutti quanti il Signore proprio lo rialzò bellissimo miracolo la chiesa che benediceva il Signore che ringraziava il Signore la domenica dopo questa persona stava al culto e ringraziava il Signore partecipava al culto la seconda domenica la terza domenica non c'era più al culto la quarta domenica non c'era più al culto il pastore lo incontra per strada e dice come mai non stai venendo al culto e lui gli rispose pastore io sono stato tanti anni in quella sedia a rotelle e non mi sono mai potuto divertire adesso che posso camminare e correre voglio divertirmi divertirmi fratello è passata una o due settimane quella persona è morta il pastore glielo disse stai attento perché Dio ti ha fatto un miracolo significherà proprio questo come dire io ti ho guarito ma non peccare perché non ti accada di peggio che c'è una morte eterna non lo so se il Signore invece si riferiva al fatto che forse l'essere paralitico era dovuto a un peccato non so io sto immaginando adesso è salito sul muretto per rubare la gallina ma dopo un meccascato si è rotto le gambe a quei tempi non è che c'avevi l'ingestature e le saldature magari era ragazzino ed è rimasto azzoppato a causa di un peccato allora Gesù gli dice ascolta non peccare perché poi ti accade di peggio lascia i peccati perché comunque Gesù parla di peccato avete notato ora la prima cosa che pensavo è ma un paralitico 38 anni lì se tu gli vai a parlare di peccato quello tipo di che ho peccato io ho tutte le disgrazie ce l'ho io sono povero non posso andare a lavorare sono paralitico non posso andare a ballare non posso andare a rubare non posso andare a uccidere io non posso peccare ma si vede proprio che non posso peccare ti potrebbe dire io lo merito il cielo io il paradiso lo merito mentre Gesù si è rivolto a lui anche con elementi spirituali perché lui non aveva bisogno solo di una guarigione fisica lui aveva bisogno anche di una guarigione spirituale perché una persona così magari davanti a Gesù poteva pensare ancora non lo conosceva avete notato che non lo conosceva ma adesso il suo nome lo sa perché poi lo dirà poteva pensare che lui quella guarigione se l'era meritata e forse il cielo si meritava ma adesso è davanti a colui che deve pronunciare il nome Yeshua tu sei Gesù che significa Dio salva tu non sei salvato perché pensi di non aver commesso peccato chissà quante volte guardando avrà imprecato avrà invidiato quante cose si sono alimentate in 38 anni nella sua mente e voi pensate che lui doveva essere solamente visitato e guarito nelle gambe o doveva anche essere visitato e guarito nello spirito quante radici velenose si erano messe e si erano attaccate in quei 38 anni perché non è una questione di essere paralizzati perché la religione ci ha insegnato la vecchia religione ci ha insegnato che se tu ti chiudevi nella montagna se tu ti chiudevi nel monastero se tu diventavi di clausura e stavi lontano dalle cose del mondo non avresti peccato non è così l'uomo è liberato dal peccato quando Gesù guarisce e noi abbiamo bisogno di questa guarigione ecco l'acqua che disseta ecco l'acqua che si rivolge alla donna samaritana cioè Gesù quando parla a quella donna gli dice se tu continui a bere l'acqua di questo pozzo tu avrai sempre sete ma io ti devo parlare di un meraviglioso miracolo di una guarigione divina che se tu beri l'acqua che io ti darò tu non avrai mai più sete io sono convinto che Gesù doveva parlare di cose spirituali perché non era sufficiente per quest'uomo la guarigione fisica ma lui aveva bisogno di una guarigione dell'anima e dello spirito allora gli disse ecco tu sei guarito non peccare più che non ti accada di peggio dopo tutto questo dopo che lui ha avuto accesso all'eternità allora quando incontra i giudei gli dirà quell'uomo che mi ha guarito si chiama Gesù e questa è la testimonianza queste sono le testimonianze che noi raccontiamo sono state raccontate le testimonianze sulla guarigione di tumori ce le ha raccontate il fratello Pulisi anche sul nipote chi è il nome che ha guarito il suo nipote si chiama Gesù chi è quel nome che ha guarito la nostra vita e ci ha trasformati quando eravamo legati all'alcol alla sigaretta al gioco alla maldicenza alla bugia all'arroganza all'orgoglio queste sono malattie che non ci fanno vivere che non ci danno pace alla paura all'ansia come si chiama quel nome si chiama Gesù chi mi ha guarito Gesù chi ti guarisce in questa mattina Gesù chi battezza nello spirito santo Gesù non è l'ottocento non è il numero verde è Gesù fratelli non è internet che guarisce non sono le risposte che noi troviamo su internet è Gesù non sono le modalità che noi pensiamo di portare avanti la nostra vita perché se sei paralitico e pensi che puoi camminare con le protesi pensi che puoi camminare con dei bastoni quella sarà la tua vita ma Gesù invece come dice la sua parola ti fa sollevare e ti fa saltare come il cervo che tipo di guarigione vuoi che tipo di cura vuoi vuoi quella che il mondo ti darà due belle stampelle magari te le dà pure ammortizzate se vuoi te le dà ammortizzate ti darà il monopattino elettrico così potrai camminare puoi andare in cerca di qualsiasi soluzione ma la soluzione che da Gesù è un'altra cosa perché quella di Gesù è una vera guarigione e io insieme a voi questa mattina voglio chiedere al Signore guarigione ho bisogno di guarigione abbiamo bisogno di guarigione alziamoci in piedi invochiamo il nome del Signore gridiamo al Signore con tutto il cuore Signore guariscimi gloria a Dio grazie a tutti grazie a tutti